Jasmine Carrisi e Albano sono stati ospiti a Verissimo. Durante l'intervista la ragazza ha confessato il desiderio di voler diventare madre, scatenando una reazione del padre che ha divertito il pubblico. Albano continua negli anni ad essere uno dei cantanti più seguiti e amati del panorama musicale italiano. I suoi brani hanno fatto da colonna sonora a tanti momenti, e nonostante i necessari cambi generazionali, la sua musica non smette mai di emozionare i fan. Una vita professionale e personale ricca di grandi successi quella di Albano, come spesso raccontato in televisione. Non si può che associare il suo nome a quello di Romina. I due sono stati per anni una coppia artistica e amorosa molto seguita. Dopo la rottura e molteplici indiscrezioni, il cantante ha intrapreso una relazione con Loredana Lecciso, un rapporto che prosegue ormai da tantissimi anni. Romina resta ad ogni modo una persona molto importante nella sua vita con la quale ha vissuto momenti speciali. Jasmine Carrisi stuzzica Albano dopo L.I.N.T. e R.V.I.S.T. a Verissimo. Dalla storia d'amore tra Loredana e Albano sono nati due splendidi figli, Albano Junior. E Jasmine. Quest'ultima è molto seguita sui social, e spesso e volentieri è stata intervistata con il papà nei vari salotti televisivi. L'ultima è stata a Verissimo. I due si sono lasciati andare ad una chiacchierata molto emozionante con Silvia Toffanin, divertendo il pubblico a casa. Tra le varie domande, Jasmine ha dichiarato di voler diventare madre scatenando la reazione di Albano. Mi sento pronta, vorrei diventare madre. A papà per il momento ho presentato solo un fidanzato. Queste le parole della ragazza, dichiarazioni che hanno preoccupato il cantante. Jasmine è giovanissima e sono ancora tanti i progetti e gli obiettivi da realizzare prima di poter mettere al mondo un figlio. Dopo l'intervista a Verissimo Jasmine ha condiviso su TikTok un video ironico che ha fatto impazzire i fan. La ragazza si tocca il pancino con la canzone di Anna Tatangelo in sottofondo utilizzata dalle mamme durante una gravidanza. Tra i due è stato evidente un grande rapporto di complicità e d'amore. Non è stata questa la prima volta in cui Albano e Jasmine hanno palesato una grande complicità ed un amore immenso. Il cantante ha anche raccontato di averla accompagnata al concerto di Justin Bieber, tutto pur di renderla felice. Tante emozioni ancora da vivere insieme permetteranno ad entrambi di costruire ricordi indimenticabili da portare nel proprio bagaglio di vita. Una figlia rappresenta per tutti i papà una seconda vita dalla quale poter imparare ogni giorno.